Buongiorno ragazzi e bentornati a un altro video, ci tenevo a filmare questo video perché secondo me sarà utile a molti di noi, molti di noi già lo sanno però per chi è principiante o anche per semplicemente rispolverarsi un'idea può essere un video utile. Noi sappiamo che per crescere e far crescere i nostri muscoli abbiamo bisogno solamente di una legge, di una regola principale ed è quella di applicare il sovraccarico progressivo. Quindi noi vogliamo andare ad applicare una tensione meccanica o uno stimolo sui nostri muscoli che è progressivo col tempo. Per quale motivo? Perché la crescita muscolare non è altro che un processo di adattamento dei nostri muscoli. Quando noi andiamo in palestra, ci alleniamo, applichiamo un tot di stimolo e di tensione sul nostro muscolo. Se ripetutamente applichiamo lo stesso stimolo non c'è più, diciamo, una forza motrice per l'adattamento e per la crescita. Quindi se tu stai facendo esattamente le stesse cose, motorabilmente dopo poco, se non progredisci, è lì che si ferma la crescita muscolare. Quindi noi per continuare con i nostri gains dobbiamo veramente applicare e favorire questo sovraccarico progressivo. Due consigli da applicare subito. Il primo è un'ondulazione di volume. Il volume è un driver primario di crescita. Cosa vuol dire? Metti che noi vogliamo stare tra le 10 e le 20, 25 serie settimanali per gruppo muscolare. Come facciamo a selezionare il nostro numero? Molto semplice. All'inizio di un mesociclo, quindi all'inizio di un programma, tu parti dal range basso di questo volume che possiamo chiamare MAV o Maximum Adaptive Volume e noi partendo da 10 serie settimanali vogliamo poi andare con un crescendo di volume. L'aumento si può fare magari in incrementi di un 20% a settimana o ogni due settimane. Quindi magari tu per due settimane stai a 10 serie per gruppo muscolare. Vedi se recuperi oppure no. Se stai recuperando, se stai progredendo con i carichi, con le ripetizioni in palestra aumenti di una o due serie a settimana per quel gruppo muscolare. Aumenti a 12 serie. Se ancora lì stai recuperando e stai progredendo per altre una o due settimane puoi aumentare di altre due serie e arrivi magari a un 14 serie settimanali. Poi magari arrivi a 18, poi magari arrivi a 20. Da lì vedi se stai ancora progredendo, se stai recuperando. Se è così, puoi benissimo continuare proprio perché abbiamo visto questa, diciamo, relazione dosa-risposta. Però molto probabilmente gran parte di noi arrivando intorno alle 20-22 serie settimane per gruppo muscolare o letteralmente soffriamo di qualità, quindi il nostro volume diventa un po' junk volume, non è così tanto qualitativo o rischia che non recuperiamo abbastanza e non riusciamo più a progredire. Allora lì sappiamo che siamo arrivati molti vicini al nostro maximum recoverable volume. Quindi siamo arrivati a una quantità di volume che letteralmente quasi stiamo lì lì e il corpo non riesce a recuperare. Lì dobbiamo semplicemente stare attenti perché se continuiamo a spingere il volume vuol dire che poi veramente rischiamo di non recuperare. In realtà possiamo letteralmente o non costruire massa muscolare abbastanza velocemente o proprio non costruire massa muscolare. Quindi a quel punto magari fai uno scarico, torni giù ad un volume magari molto basso per una settimana oppure per due o tre giorni, torni a sei serie per gruppo muscolare per una settimana, magari a otto, eccetera. E da lì riparti con questa ondulazione di volume. Quindi quello è il mio primo consiglio, il consiglio. Se non lo stai facendo fallo perché è l'unico modo per capire veramente a cosa risponde bene al tuo corpo e quanto volume tu stesso riesci a recuperare. Abbiamo tutti i lavori diversi, sei uno studente, hai stress diversi, quindi abbiamo tutte capacità di recupero differenti. Questo è l'unico modo in pratica per veramente capire quanto volume riesci a sostenere e riesci a sostenere il tuo corpo. Quello il primo consiglio. Il secondo consiglio è l'intensità e voglio vedere intensità in due modi diversi. La prima intensità come percentuale del nostro massimale è praticamente possiamo decidere, tra virgolette, tramite l'impostazione di un rep range. E la cosa intelligente si vede sempre per stimolare tutte le fibre muscolari del muscolo, meglio allenarsi con un mix di intensità. Quindi se molto del tuo lavoro lo stai svolgendo sempre alla stessa intensità, quindi sempre nello stesso rep range per un gruppo muscolare, ad esempio sempre dalle 6 alle 8 ripetizioni, dalle 6 alle 10 ripetizioni, potrebbe essere intelligente anche includere invece qualche, un altro esercizio, magari un'altra cosa di isolamento per variare un pochino questo rep range, variare quindi l'intensità come percentuale del nostro massimale. Magari se gran parte del lavoro lo continuiamo a fare tra le 6 alle 12 ripetizioni, che è diciamo un range pratico per l'ipertrofia, però poi includiamo anche del lavoro un pochino più di stress metabolico, magari 15-20 rep a serie, e magari possiamo anche includere pochissimo, ma qualche serie con decariche ancora più elevati. Se noi appunto spaziamo e utilizziamo un mix di rep range, si è visto e sembrerebbe essere la cosa migliore per garantire uno sviluppo di tutte le fibre muscolare di tutti i tipi. Poi intensità come seconda definizione, proprio intensità come impegno e come sforzo e come quindi prossimità al cedimento. Sappiamo che dobbiamo allenarsi vicino al cedimento e andrebbe benissimo allenarci con diciamo un tre o quattro rear, rear è reps and reserve, stando sotto tre quattro reps and reserve per ogni serie, quindi letteralmente dobbiamo arrivare almeno a tre rep dal cedimento. In pratica io personalmente anche lavorando con le persone, anche vedendo con me stesso, in realtà non ci spingiamo così tanto rispetto a quanto crediamo in testa, soprattutto sui movimenti di isolamento. Quindi in pratica intensità come sforzo, come prossimità al cedimento, andrebbe in teoria bene allenarci con un tre o quattro rear, ma io personalmente consiglio di stare con un'intensità ancora più alta. Se tu sei principiante, allenati con tre quattro rear, farai i tuoi gains. Se sei più sull'intermedio, io mi manterrei ad un 2-1-0 rear. Se sei molto avanzato, te leni da tanti anni, non stai crescendo, c'è un muscolo debole che veramente ti sembra far tutto e non cresce, allora andrei a spingermi oltre il cedimento letteralmente, che vuol dire arrivi fino al cedimento con le tue rep complete e poi continui a respirare e proprio a fare qualche rep in più, un pochino più forzata, non cambiando il movimento, non stravolgendo la forma, ma facendo magari qualche rep parziale e provando veramente a distruggere quel muscolo. Quindi questi sono i miei consigli, di oggi. Non devi fare niente, la cosa principale è il sovraccarico progressivo, quindi se tu, ad esempio adesso anche senza fare niente, va in palestra e stai progredendo una seduta dopo l'altra, probabilmente stai crescendo. Tutte queste cose, l'ondulazione di volume, il mix appunto di rep range per l'intensità, il fatto di allenarsi vicino al cedimento, tutte queste cose entrano in gioco se tu stai avendo difficoltà a applicare il sovraccarico progressivo. In un nocciolo sono i miei, diciamo due consigli che ho imparato e applicato nell'ultimo periodo e sto finalmente vedendo un po' di crescita muscolare nuova dopo veramente, direi, tanto tempo a purtroppo vedere veramente minimi gains perché ormai mi alleno da anni. Io ovviamente ce la metto tutta, anche solo un paio di chili, se riesco a metterli quest'anno, mi fa piacere. Questo era il video di oggi, se ti è piaciuto lasciaci un like, iscriviti se non l'ho ancora fatto, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, commenta per l'algoritmo che mi aiuti tanto e apprezzo tanto. Noi ci vediamo nel prossimo video e come sempre, keep improving.